Ceria di crisi all'interno dell'ex SOFIM, la FPT Industrial, è un clima molto rigido che non porta nessuna buona notizia, anzi rischierebbero oltre 100 lavoratori. A tracciare lo scenario sono i sindacati fortemente preoccupati soprattutto dopo l'incontro con i vertici dell'azienda. Un incontro sollecitato proprio dalle organizzazioni sindacali insieme all'RSA per cercare di capire qual è la situazione. I dati forniti dall'azienda hanno mostrato che i volumi di produzione si sono ridotti di oltre il 7% e in particolare si prevede una diminuzione anche della quota motori F1C fuso F5CNH, mentre si potrebbe mantenere sostanzialmente stabile la produzione dei motori per l'Aiveco. In considerazione di questo scenario l'azienda ha già comunicato ai sindacati di non poter rinnovare i contratti dei lavoratori in somministrazione con scadenza a febbraio e che nel corso del 2004, in base ai volumi previsti attualmente, sarà necessario ricorrere ad alcune ore di cassa integrazione. I sindacati hanno espresso la propria preoccupazione per lo scenario illustrato e hanno chiesto all'azienda se in un futuro ci sarà la possibilità di rinnovare il parco lavoratori, di tenere in considerazione questi operai che hanno imparato il mestiere per non disperdere le professionalità. Inoltre, l'azienda ha anche illustrato ai sindacati che con il dovuto rispetto sicuramente prenderà in considerazione la proposta delle organizzazioni sindacali. Inoltre, sono stati affrontati temi relativi all'impatto sullo stabilimento della transizione energetica in atto e a questo proposito l'azienda ha confermato la volontà di percorrere delle strade alternative alla sola proporzione elettrica, però sempre in linea con la neutralità tecnologica, sottolineando che sono diverse le soluzioni praticabili, ma che tutto dipende dalle attuali e future normative europee del settore. A questo proposito, i sindacati hanno evidenziato la necessità per lo stabilimento foggiano di avviare un processo di riconversione nell'ottica della transizione energetica ed inoltre hanno ribadito la propria volontà di poter trovare delle soluzioni immediate che possano salvaguardare l'occupazione, il reddito e il futuro dello stabilimento.